Enormi cubi di ghiaccio che diventano opere d'arte. A Gaeta nel weekend scultori provenienti da 12 diverse nazioni si sono sfidati in una gara di precisione e di estro. Ognuno con la sua tecnica, sotto lo sguardo di numerosi spettatori, hanno realizzato sculture uniche e suggestive, soprattutto a termine, essendo di ghiaccio. Il tempo di qualche foto, poi il ghiaccio inizia inevitabilmente a sciogliersi.